Sul sito del Comune è attiva la nuova sezione Servizi Online per pagare tasse e tributi. Accedendo al portale attraverso l'home page è possibile registrarsi per conoscere la propria situazione contributiva, verificare i dati in possesso del Comune, stampare avvisi di pagamento e produrre i modelli F24 per il versamento. Vi è inoltre una sezione Catasto che consente la connessione diretta al database dell'Agenzia delle Entrate. Si possono visualizzare gli immobili di proprietà ed utilizzare i dati anche per il calcolo di Tari, Imu e Tasi. Sul portale è presente anche una bacheca messaggi per comunicare direttamente con il Comune, evitando di recarsi agli uffici tributari di Corso Arnaldo Lucci.